Quindi è lo specialista del settore che riguarda la public sector di Data Group che è uno dei quattro settori della Group e è un settore particolarmente importante per noi perché è quello che ci permette di considerare assieme a lui oggi le problematiche che le amministrazioni e gli enti pubblici affrontano quando si pongono delle prospettive progettuali di utilizzo delle nuove tecnologie per promuovere il territorio, per migliorare l'amministrazione, per promuovere l'economia, ecc. Quindi vediamo un pochino con Luigi Zanella quali sono le prospettive le più recenti, diciamo, le più up-to-date per affrontare, portate e sfintate le nuove tecnologie. Ecco qua, diciamo, perché non ci si sceglie da fare qualche sforzo. Grazie. 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 Bene. Allora, il mio compito è quello di raccontarvi un come tecnologica, con il digitale stanno affrontando il tema della dematerializzazione delle informazioni con le quali noi normalmente lavoriamo. L'argomento è quello del cultural mapping, quindi quando parliamo di cultural mapping, che è una disciplina, se volete, abbastanza antica come pensiero, cioè quello di tentare di fare la visione d'insieme di quelle che sono le risorse che hanno a che fare con lo sviluppo culturale di un luogo, oggi ha solo un significato diverso, perché con cultural mapping possiamo intendere questa definizione. Quindi avere, puntare a costruire un sistema di informazioni organico di quelle che sono le risorse sia materiali che immateriali della cultura, del paesaggio, sociali, produttive di un luogo, con l'obiettivo di descrivere in maniera più compiuta possibile il territorio, quindi le caratteristiche e le risorse di quel luogo, mettere a disposizione questo sistema di informazioni ai decisori, ai cittadini, alle persone che ruotano attorno a un territorio, per stimolare una creatività, per avere le basi sulle quali andare a costruire nuovi modelli di sviluppo, nuovi modelli di turismo sostenibile, quindi di turismo buono, per collegarmi con l'intervento precedente, insomma mettere in sinergia le risorse di pensiero, perché uno dei problemi grandi che noi tutti abbiamo è che quando ragioniamo sulle cose non riusciamo mai a sapere tutto quello che ci serve per prendere la decisione, manca sempre uno per fare mille. Quante volte sentiamo dire si potrebbe fare questo, si potrebbe fare quello, ma manca una visione di sistema, quindi purtroppo non lo facciamo, lo si sente quasi tutti i giorni, cioè si da sempre raccorda il fatto che manca la visione di sistema per fare il prossimo passo. Dobbiamo eliminare questa frase, dobbiamo metterci in condizioni di non avere più questo limite. Allora, per fare questo, oggi il digitale ci dà un'opportunità in più. Per introdurre che cosa possiamo fare con il digitale vorrei chiamarmi a Stefano Quintarelli, non so se lo conoscete, è un prima ricercatore, poi è stato imprenditore, è una persona che ha fondato la prima società di internet in Italia, cioè ha portato internet in maniera seria e grande in Italia. Poi è stato il responsabile delle edizioni digitali del Sole 24 ore e oggi è deputato, ed è il presidente del comitato di indirizzo dell'Agenzia per l'Italia digitale, quindi è quel gruppo di persone che in qualche modo dovrebbe disegnare il futuro del digitale del nostro paese. Ha scritto un libro che mi piace tantissimo da leggere e rileggere, che si chiama Costruire il domani, che vi consiglio, è piccolino e fa vedere come il digitale entra nella nostra vita nei vari settori, quindi dalla salute, dalla cultura, dalla scuola, del trasporto eccetera, con un bel inquadramento, una bella visione, una bella nazionalizzazione del nostro mondo, e porta questa definizione, la dimensione materiale. Cioè ci dice, ci spiega, e a me questo piace veramente molto, che a fianco della dimensione materiale delle cose, quella che tutti noi conosciamo, quindi il quadro, il bene culturale, la persona, l'oggetto, il treno, l'aereo, quindi di fronte a questa dimensione che noi capiamo e con la quale ci sappiamo relazionare bene, si sta presentando nel nostro mondo digitale una sua controparte immateriale, quindi non virtuale, perché si usa la parola virtuale quando si intende qualcosa che non esiste, no? Quindi la realtà virtuale è una realtà indentata nella quale ci si può immergere. Invece la dimensione immateriale è una rappresentazione digitale di una cosa che nella realtà esiste, no? Vi voglio fare un paio di esempi che tutti noi più o meno conosciamo. Gli aerei, i treni, in generale i mezzi di trasporto, 30 anni fa gli orari dei treni, gli orari dei mezzi di trasporto, degli aerei, eccetera, erano su carta, quindi tu per pianificare il tuo viaggio ti compravi quel librino giallo, no? Bene, il passaggio all'immateriale, cioè il dare una dimensione immateriale al trasporto aereo, al trasporto ferroviario. Che cosa ha permesso di fare? Ha permesso a altri, rispetto a coloro che forniscono il servizio, quindi che forniscono il volo, che forniscono l'aereo, di costruire sistemi di aggregazione delle informazioni relative ai voli, relative ai trasporti, no? e ottimizzare l'uso degli aerei e l'uso dei treni andando a programmare gli orari, andando a vendere gli orari, andando a vendere il servizio con un'accuratezza nella definizione del servizio estrema. Quindi, quello che è un oggetto cartaceo, che è un oggetto, diciamo, che possiamo toccare, che se io in questo momento lo sto toccando qui, giù in fondo alla sala nessuno lo può toccare, se questo oggetto diventa immateriale, cioè va nella rete e quindi diventa, assume la sua forma digitale, tutti nella sala lo possiamo toccare questo oggetto. Ce l'abbiamo replicato tante volte quando siamo all'interno di questa sala, quindi l'orario dei treni, l'orario degli aerei, i mezzi di trasporto, diventano qualcosa che in tanti possono manipolare. Cosa succede? Qual è l'effetto collaterale di questa cosa? Che nascono le app tipo il treno, che non so quanti di voi conoscono, che è un'app dove tu scrivi che vuoi andare da A a B e lì dentro trovi tutti i collegamenti, sia di Italo, che di Trenord, che di Trenitalia, che di BlaBlaCar, questo servizio in cui si offre un passaggio per andare da un posto in alto. Quindi, a seconda di quanti soldi in tasca e di quanto tempo ci vuoi mettere per andare da un posto in alto, scegli il viaggio che ti preferisci. Un'altra cosa in cui l'immateriale ha avuto un ruolo fondamentale è Airbnb. Non so quanti di voi lo conoscono, però è un sistema per poter affittare casa propria per qualche giorno a chiunque nel mondo. Anche questa è un'iniziativa che nasce sei anni fa, quindi da pochissimo tempo. Dentro Airbnb c'è la rappresentazione immateriale di 650.000 camere. Più o meno lo stesso numero di camere che ha l'Hilton, che ha 93 anni di vita. L'Hilton è distribuito su 88 nazioni, Airbnb è distribuito su 192 nazioni. Perché? Perché funziona quell'oggetto lì? Perché casa mia la rendo immateriale, quindi la rappresento nel digitale e qualcun altro torna a casa mia, valuta se è un appartamento interessante per sé, lo affitta, ci viene ad abitare che in un certo punto diventa materiale per lui e poi se ne va. Questo stesso discorso, e poi vado oltre, sta avvenendo nell'Internet of Things. Quando parliamo dell'Internet delle cose, anche questo probabilmente è un termine che avrete sentito dire, è di nuovo questo modello del passaggio dalla dimensione materiale all'immateriale che lo sta rendendo possibile. Pensate a casa vostra. Dentro casa vostra ci sarà la lavatrice che comunica con Internet, ci sarà il frigo che comunica con Internet, ci sarà l'orologio che prende i vostri battiti che addirci che comunica con Internet, ci saranno le luci che comunicano con Internet, ci sarà il riscaldamento che comunica con Internet, eccetera. Ma che cosa comunica fare con Internet? Ci si domanda. Cosa mi serve comunicare con Internet? Beh, comunicare con Internet serve per ottimizzare il funzionamento di queste cose. Cioè, nel momento in cui c'è una rappresentazione virtuale di questi oggetti, è possibile, senza toccarli, ottimizzare il funzionamento. Quindi, segnalare se il battito cardiaco di un anziano solo in casa sta andando diversamente da come dovrebbe andare. Se ci sono dei fumi o non ci sono dei fumi in casa, perché un anziano che vive solo, se si fa da mangiare, genera anidride carbonica in casa. Genera... adesso mi sfugge il nome... quindi si sente, si odora il fatto che qualcuno si stia muovendo. Quindi queste cose vengono passate all'immateriale e su queste si possono intraprendere azioni. Quindi il passaggio all'immateriale, questa dimensione immateriale che sta interessando tutti noi, perché quando noi parliamo con WhatsApp, parliamo con la rappresentazione immateriale della nostra controparte, del nostro figlio, del nostro fratello, della persona che sta dall'altra parte. Dimensione immateriale che parlate bene, i signor Facebook, quelli che hanno costruito questi oggetti, se ne stanno pure impossessando di questa dimensione immateriale e dopo ne parliamo un attimo. Questa è la deviazione di questo mondo digitale, che però non si può fermare. Cioè, queste cose stanno accadendo sotto i nostri occhi e le dobbiamo cavalcare e, come pubblica amministrazione, impossessarcene, dominarle, governarle. Ma anche dopo ne parleremo e lo vedremo meglio. Perché questo sta accadendo? Beh, per due fattori grandi. Uno è la rete, di nuovo so che ci sono degli studenti in questa sala e quindi queste sono informazioni utili. Uno è la rete e l'altro è il costo delle tecnologie, dei sistemi di calcolo e dei sistemi di memorizzazione che sta scendendo alla velocità della luce. Cioè, oggi, avere spazi di calcolo e spazi di memorizzazione sulla rete costa poche decine di euro. Quindi con la carta di credito uno si può comprare per un giorno, per una settimana, per un mese un supercalcolatore posizionato da qualche parte del mondo per farci delle cose che una volta era praticamente impossibile poter fare. Per cui ti compravi il computer da 1.000 euro per poter fare cose complicate, se no non le potevi fare. Invece oggi puoi comprare potenza di calcolo nella rete. Queste due cose messe insieme hanno abilitato questa nuova possibilità, cioè questa possibilità di dematerializzare, quindi di spostare nell'avversore immateriale quello che capita fra di noi. Il lavoro che è stato presentato prima è l'inizio del processo di attribuzione di una dimensione immateriale ai beni culturali del vostro territorio, ai beni che sono stati censiti. È l'inizio del percorso. Poi vediamo che cosa serve per proseguire su questo percorso, per farlo diventare qualcosa di concreto. Quello che sta accadendo, ma di questo ve ne state rendendo conto anche voi, è che i nostri percorsi nel digitale sono quotidiani. Cioè noi tutti i giorni cerchiamo su internet nelle presentazioni precedenti, abbiamo lavorato interagendo con il digitale. E ogni volta che interagiamo con il digitale continuiamo a produrre contenuti, continuiamo a produrre tracce di noi. Quindi questo sistema di conoscenze crea continuamente contenuti e valore. Ora, questo disegno qui, che è molto complicato ma vi sintetizzo rapidamente, è l'idea di futuro che ha la nostra pubblica amministrazione centrale, che poi diventerà anche legge per le pubbliche amministrazioni locali, ha un'idea di futuro che si basa proprio sulla lettura di questo modello che vi ho appena descritto. Cioè di questa rappresentazione di una forma immateriale delle cose che ci stanno intorno. Quindi la nuova architettura, che diventerà obbligatoria per le pubbliche amministrazioni, sta per essere emanato quello che si chiama il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Quindi le amministrazioni che faranno così potranno spendere i soldi, quelle che non faranno così non potranno spendere i soldi. Quindi diventa obbligatoria come disegno. E in questo disegno, vedete lì, la base di questo disegno sono proprio le infrastrutture immateriali, cioè la rappresentazione di noi, si sta costruendo un'anagrafe nazionale che si chiama NPR, in cui tutti noi siamo registrati, un'anagrafe nazionale degli oggetti, l'identità digitale, non so se avete sentito parlare di speed, è un'identità che ci permette di poter andare sul sito dell'Inps, sul sito dell'Agenzia dell'Entrata, di essere riconosciuti in maniera certa, che può essere presa alle poste in focale, che può essere presa ovunque, per i diciottenni dal diritto al bonus, dal modo, il canale attraverso il quale un diciottenni si identifica, può scaricarsi il famoso voucher per comprarsi, appunto, oggetti attenenti alla cultura. Quindi queste infrastrutture immateriali diventano il patrimonio della pubblica amministrazione e diventano il modo con cui gli altri, cioè i privati, le altre pubbliche amministrazioni interagiscono con queste informazioni. Quindi quando all'inizio dico dobbiamo mappare l'esistente, cioè dobbiamo cercare di capire quello che sta intorno a noi e poterne avere una visione sistemica, quindi non solo gli aspetti della cultura, gli aspetti produttivi, gli aspetti sociali, poterli avere tutti insieme. Il digitale perché ci aiuta? Perché questi registri che oggi sono chiusi all'interno della pubblica amministrazione diventano patrimonio migliore, diventano di tutti. A tavola, ho sentito la corona, possono essere scippati alla pubblica amministrazione, cioè io posso impossessarmi di dati della pubblica amministrazione e come privato costruirci sopra delle cose buone o cattive. Sarà compito della pubblica amministrazione governare questo processo in modo tale che le cose siano utili a noi, che non vengano utilizzate contro di noi. Però è un processo, un processo che è in corso e che va capito e utilizzato. Quindi in questo disegno che sta avvenendo, un comune, come il comune che ci ospita, ha dentro le proprie mura un patrimonio di informazioni straordinario. Se voi leggete con santa pazienza le funzioni che un comune oggi ha in capo, negli anni sessanta i comuni avevano due o tre funzioni, l'assistenza, l'anagrafe e poco altro. Oggi, con i vari accendamenti delle leggi, le deleghe e poi anche i sindaci che si appropriano di funzioni per lo sviluppo del popolo territorio, ad esempio quella della cultura e quella del turismo, sono funzioni che non sono specificamente assegnate ai sindaci, però i sindaci hanno interesse a farsi che il turismo sul proprio territorio e le attività culturali vadano, quindi si appropriano anche di queste funzioni. Tutte queste funzioni che vedete qua producono all'interno degli enti locali un patrimonio informativo di grandissimo valore, che però rimane chiuso all'interno delle mura dei comuni tendenzialmente, cioè rimane peggio ancora nei cassetti dei funzionali che hanno in capo quelle funzioni. Quindi c'è l'archivio dell'edilizia, c'è l'archivio dei tributi, c'è l'archivio dell'anagrafe, c'è l'archivio del commercio, ma non c'è una visione insieme di quello che c'è. Quindi quello che bisogna fare, quello che bisogna fare, ed è il punto... Si è fermato di nuovo? Allora fermiamoci qua. Quello che bisogna cercare di fare, tanto che lui speriamo si stabilizza, è mettere a disposizione di chi poi vuole fare business, vuole fare iniziative di tipo culturale, le associazioni di volontariato che vogliono imparare da quello che è la realtà del Comune, il Comune deve mettere a disposizione le proprie informazioni. Le informazioni del Comune, prima mi ricollego alla presentazione precedente, sono tutte, o quasi tutte, correlabili al territorio. Prima avete visto la mappa GIS della presentazione precedente, dove c'era una particella catastale, c'era una strada, nelle mappe, perché erano mappe antiche, non c'erano i numeri civici, però nelle mappe di oggi ci sono anche i numeri civici, quindi siccome quelle tre cose sono rappresentate nella mappa, su quelle stesse mappe che abbiamo visto prima nella presentazione precedente è possibile rappresentare anche quello che avviene sul territorio, facendo cosa? Andando a mappare le banche dati che sono presenti all'interno della pubblica amministrazione. Quindi, pubblica amministrazione che parte dal Comune, ma poi va su su, verso la Regione e verso lo Stato. Dopo lo vedremo con un esempio concreto. Ma come funziona il meccanismo di pappatura? Funziona così che, se prendiamo ad esempio quell'elenco là in alto, quelle che sono banche dati del Comune, tipo l'anagrafe della popolazione, il commercio, le imprese, gli alberghi, i ristoranti, le tasse, sono tutte informazioni che sono riferite a una via o un numero civico che è rappresentabile su una mappa. Quindi, quella mappa che vedevamo prima, dove erano colorati i toponimi, erano colorati le qualità dei territori, può essere colorati, andare nell'evidenziale, dove si trovano tutti gli alberghi, oggi, dove si trovano tutti i ristoranti, oggi, dove si trovano tutti gli edifici in cui abitano, per esempio, persone anziane, tutti gli edifici in cui si svolgono determinati tipi di attività, e così via. E poi andando su su, anche tutti gli edifici nei quali si svolgono attività culturali, nei quali sono collocate opere d'arte, e così via. Quindi esistono archivi oggi in cui c'è scritto la via numero civico in cui si trova un'opera d'arte per poter mappare un'opera d'arte, e questo è il collegamento. Quindi la cartografia, il GIS, è il tessuto connettivo sul quale andare a rappresentare la mappa, la rappresentazione dei beni culturali, non solo intesa come beni del patrimonio, non solo di un territorio, quindi sia i beni culturali che le caratteristiche del territorio. Quindi vedete, in questo disegnino noi vediamo una mappa, la stessa mappa che vedevamo prima, con un edificio rappresentato, i puntini rossi che vedete sono i numeri civici, no? Selezionando su quella mappa i numeri civici io posso andare a tirare fuori quali sono i ragazzini che vanno in terza media quest'anno, che abitano in quel posto lì. Oppure posso tirare fuori quali sono gli anziani che abitano in quel posto lì. Oppure quali opere sono all'interno di quell'edificio. Quindi è una mappatura puntuale di dove sono le cose. Quindi la cartografia, il GIS, oltre ad essere una testimonianza storica, una rappresentazione del nostro passato, oggi è anche la chiave di lettura di quello che succede sul nostro territorio. Quindi quando parliamo di cultural mapping, il cultural mapping si fa sia con questi diagrammi a palla in cui vengono presi in esame i vari aspetti della cultura, quindi i beni culturali, dei soggetti che producono la cultura, le risorse naturali, eccetera, eccetera. Ma la mappa, la rappresentazione in mappa di quelle che sono le risorse, quella che è la potenzialità, mi dà la chiave di lettura, mi dà lo stimolo per aprire idee, per discutere, per negoziare. Qui c'è una cosa, qui non c'è una cosa, questa cosa è più vicina a quella. Quindi anche nel decidere dove aprire, dove spostare, dove fare un intervento, dove sviluppare, la mappa è la chiave. È la chiave, perché è quella che mi fa leggere quello che accade sotto. Ora, la dimensione immateriale, quando è che diventa tale? Prima abbiamo visto l'archivio dei beni che sono stati rilevati. I beni sono stati messi su internet, quindi queste schede sono state messe su internet. Quando è che quella dimensione immateriale che è stata data ai vostri beni culturali, quindi questa rappresentazione digitale, diventa la dimensione immateriale dei vostri beni? Quando sono garantite tutte queste caratteristiche? Cioè quando tutti questi aggettivi sono soddisfatti? Cioè quando è accessibile? Quindi quando chiunque di noi può andare e leggere quelle cose? Questo ce l'abbiamo. Quando è aggiornata? Adesso non è. Adesso in questo momento non è. Bisogna mettersi nelle condizioni di tenere aggiornata nel tempo. Per i beni culturali storici è facile, per altre cose non meno. Deve essere affidabile, quindi deve essere prodotta da soggetti affidabili. Ci sono un sacco di informazioni che riguardano i beni culturali prodotte da soggetti non affidabili. Quindi l'affidabilità, ho visto la firma in fondo alle relazioni, l'affidabilità è fondamentale sull'informazione. Deve essere accurata, deve essere comprensibile e l'ultimo punto, che è il più difficile di tutti, deve essere elaborabile. Cioè deve essere dato la possibilità a terzi di poterci lavorare sopra. E questa è la parte più complicata. E' quella che fa diventare gli orari di Trenitalia, assieme a quelli di Italo, un'applicazione. Quindi è necessario che queste cose che voi avete mostrato fuori, possano essere elaborate anche da soggetti che voi oggi non conoscete. Devono essere date al mondo. Quindi non devono essere mostrate solo al vostro territorio, o al mondo attraverso un sito. Iseo Lake è un bellissimo sito, però Iseo rispetto al mondo è piccolo. Come fai a scoprire che c'è Iseo? Quindi per poter scoprire che esistono dei luoghi, questi luoghi devono essere fatti vedere e abbandonati nel mondo del digitale. Quindi deve essere dato libero arbitrio a chi si vuole muovere su queste cose, perché queste cose entrino all'interno dei meccanismi complessivi della rete. Quindi un esempio, se i dati che la pubblica amministrazione ha, quindi qui di fianco ci sono i dati che i comuni normalmente hanno, del proprio territorio, venissero messi a disposizione con questa freccia che mostro qua al centro, intendo l'elaborabilità del dato, quindi il fatto che anche altri si possono mettere le mani sopra, e possono essere messi assieme a chi pubblicizza il proprio ristorante, un proprio bello, quindi il mondo delle strutture legislative, piuttosto che il mondo dei produttori locali, quindi produttori di vino, produttori di odio, che piccolini, come sono, magari si stanno affidando, ne parlavamo proprio a tavola, società che gli dà una mano a farsi vedere, quindi e-commerce, a farsi vedere, eccetera. Se questi soggetti qua si fanno vedere, poi diventa facile, diventa facile per il nostro futuro, gli studenti, le persone che stanno uscendo adesso da scuola, che vogliono cominciare, che sono più bravi a muoversi sulle cose digitali, se loro potessero manovrare queste cose tutte insieme, poi ci pensano loro a inventarsi il modo con cui mandare queste cose su Marte, a far vedere queste cose al mondo intero, e magari si arricchiscono anche, magari diventano persone che su questo ci costruiscono la propria vita. Quindi il nostro dovere, come pubblica amministrazione, è far sì che questo accada, e non lasciare queste cose nelle mani della Facebook del momento. Siccome la pubblica amministrazione tutto questo patrimonio ce l'ha, è suo, quindi lo deve aprire, e lo aprirà attraverso i processi che stiamo vedendo, per quell'altro invece serve aiuto, serve guida, quindi non servono istruzioni, ma serve una guida, servono delle destructis. Guardate a dire che quando si fanno queste cose qua, quello che succede quasi subito, è che i grandi aggregatori, nel momento stesso in cui voi pubblicate i dati sulla rete, i grandi aggregatori li prendono. Cioè appena si pubblicano, la regione Emilia Romagna ha pubblicato la mappa dei propri edifici, dei propri civici, come Open Data, due settimane dopo questi dati erano dentro OpenStreetMap, quindi che è la mappa open source, come sapete, più diffusa al mondo, quindi due secondi dopo chi è che va a vedere il sito della regione Emilia Romagna per conoscere gli edifici? Nessuno, perché nessuno sa nel mondo che esiste. Invece OpenStreetMap lo conoscono tutti. Così come il trasporto, la mobilità sostenibile, i percorsi, i sentieri, Google, che pur essendo da parte del mondo, tra virgolette, cattivo, però Google è un strumento di grande trasferimento di informazioni, quindi mettere i percorsi, tutto ciò che sono i percorsi, la mobilità eccetera all'interno di quel mondo, vuol dire potete creare percorsi che vanno da Stoccolma fino all'Overe, oltre che quello stradale, ma anche percorsi di mobilità sostenibile, quindi percorsi ciclabili eccetera. Un altro esempio che mi piace moltissimo è quello dell'Unione del Campo San Pierese, che è un'unione di comuni nel Padovano, che basandosi proprio su questo modello ha costruito un modello di misurazione del benessere sul territorio, quindi il benessere ecosostenibile, quindi ha messo sotto controllo una serie di fattori, sociali, ambientali, culturali, economici, e si misura come sta. Quindi si è creato un modello che si chiama PES, di benessere ecosostenibile, in cui si confronta anno su anno, rispetto agli obiettivi che si è dato, come sta e come va il benessere sul proprio territorio. Scorro molto rapidamente alcuni esempi di buone pratiche, primo fra tutti, ma non per ruffianaggine, sono qui in Lombardia, quindi non lo faccio perché sono in Lombardia, ma il sito degli open data della regione Lombardia è uno dei siti più importanti e più completi presenti sul territorio italiano, dove troviamo tutte le schede delle operte archeologici, delle opere d'arte, le troviamo, sono all'interno dei file Excel che si possono scaricare, gli manca la elaborabilità, come manca tutti i siti, cioè io non riesco ancora a prendere la scheda di un quadro, la sua immagine e elaborarla, e metterla a confronto, per esempio, con la scheda di un altro quadro, di un altro luogo dove lo stesso artista, in due luoghi diversi, ha rappresentato in maniera diversa le stesse cose. Quindi sono ancora indietro, cioè gli manca ancora l'ultima riga, non sono elaborabili, non sono reali dei treni. Passi avanti, ne sono stati fatti sul portale open data della regione Lazio, dove, oltre al dato aperto, ti dova anche delle chiavi di lettura, cioè ti faccio capire com'è il contenuto del dato, quindi ti do una mano a comprendere il dato. Passi ancora avanti la tanto bistrattata Roma, che poveretti adesso prima o poi non usciranno, però a Roma la mobilità, Roma Mobilità rende disponibili i trasporti degli autobus in tempo reale, come open data. Quindi, per esempio, non passano, però lo sai. Sembra che te lo conferma, non passano. Aspetta, spero, non la crederà mai. Parlo a parlo. Però sai che passerà per mezz'ora, quindi qui via dentro, no? Sempre in regione Lazio, sempre in regione Lazio, un'altra cosa grande che hanno fatto, bella che hanno fatto, sono le file ai pronti soccorsi. No? Cioè, quante persone sono in attesa al pronto soccorso disponibile come open data? Quindi io posso accedere a questa informazione sia su un'applicazione presente sul sito che nessuno magari conosce, però alla stessa informazione accedo alle app turistiche più diffuse al mondo, dove se io sono a Roma e ho bisogno di andare al pronto soccorso, clicco la funzione del pronto soccorso e mi dice anche qual è quello che ha meno file in quel momento. L'altra pratica è la regione Sardegna. La regione Sardegna è un altro territorio che ha fatto un grandissimo lavoro sui beni culturali, sulla conoscenza di sé, sulla conoscenza dei beni identitari. Prima si parlava della riconoscibilità di alcuni ruoli, di alcune strade che rappresentano l'identità del proprio territorio, addirittura ha messo nella normativa del piano paesaggistico, che ogni comune, prima di intervenire o di fare pianificazione urbanistica, deve riconoscere i propri beni identitari, censirli, catalogarli, consegnare in regione che ne crea una banca data comune disponibile per tutti, per mantenere e sovraguardare l'identità dei territori, che come tutti sapete il turismo, le viste dall'esterno sono delle fonti di reddito maggiore, quindi il territorio è il bene più prezioso che c'è, la propria identità è il bene più prezioso che c'è, e quindi lo sovraguardano. Di nuovo la Sardegna ha fatto un ottimo lavoro sulla elaborabilità del dato, quindi tutti i dati conoscitivi della regione Sardegna, beni culturali, beni archeologici, beni naturali, quindi dalle spiagge ai beni paesaggistici, sono accessibili ed elaborabili da chiunque in tutto il mondo. Quindi nell'esempio che vedete qua sotto, io mi collego al sito della regione Sardegna e mi scarico la localizzazione di tutti i siti archeologici e di tutti i beni culturali che sono presenti sulla regione Sardegna e di un incis sulla mia scriveria, quindi in locale da me. Cioè non me li scarico, non me li copio, mi collego e li posso elaborare mentre sono collegato con questo. La narrazione, l'ultimo punto, così concludo, è la possibilità, quando si parla di elaborabilità del dato, è poter prendere i beni culturali e farci dei racconti sopra. Narrare storie, non narrare esperienze. I turisti che vengono sul vostro territorio, tramite Twitter, Instagram eccetera eccetera, narrano quello che gli sta succedendo. Cioè raccontano agli altri e anche a voi, perché sono aperte queste cose, quello che gli sta succedendo. Quindi c'è sia la narrazione istituzionale che quella che vedete qui, quindi toccando per esempio laggiù un uraghe, in quella mappa che vediamo prima, cliccando in un uraghe, poi vado a vedere la narrazione, quindi questa l'ha costruita un esperto, quindi è un racconto di quel luogo fatto col taglio che si diceva prima, quindi sia scientifico che turistico, quindi voto a divulgare una cosa, ma la sfida vera è quella di raccogliere l'allarrazione che viene dai turisti, che viene da chi vede il nostro posto e lo racconta agli altri. Perché guardate, quella che arriva prima di qualunque altra cosa agli altri. Io sono stato in quel posto e mi sono trovato bene, ho visto questo luogo, lì mi sono innamorato, ho fatto questa meravigliosa foto, non può non vedere questo tramonto. Quindi questo tipo di messaggi hanno un valore fortissimo, molto più grande di qualunque altro messaggio. Quindi qui nasce tutto un nuovo mondo, e parlo per chi vuole pensare un proprio futuro in questo campo, il mondo dello story mapping, cioè catturando i twitter, catturando gli instagram, costruire storie dei luoghi testimoniate da chi luoghi li ha visitati. Quindi non le storie ufficiali, ma le storie di chi li ha visitati. Infine, la biblioteca vaticana sta facendo un lavoro di digitalizzazione di tutto il proprio patrimonio. Noi abbiamo l'onore all'interno di questo progetto di trattare il flusso di dati che va dalla scansione del manoscritto alla sua conservazione per l'eternità, come dicono là. Stanno utilizzando un formato dati che si chiama FIT, che è garantito essere utilizzabile da qui ad almeno 50 anni, che nell'informatica vuol dire infinito, quindi è l'unico luogo del mondo in cui i dati vengono memorizzati in questo modo. C'è un processo di digitalizzazione delle cose favoloso, cioè veramente grande. Quello che vedete qui sono sette pergamene dei botticelli che rappresentano un'opera tantesca, conservate nella biblioteca vaticana, sono sette di cento credo le altre, sono in Germania, conservate in un museo tedesco, e comunque queste immagini le vedete e le potete consultare così. C'è un difetto però, c'è un difetto, che queste immagini vengono prese dall'archivio e fatte diventare immateriali. Non sono le scritte, cioè tutta la conoscenza che c'è all'interno di questi documenti su internet non c'è, c'è il documento. Ora, si sta lavorando assieme a loro e assieme a la NASA, l'Agenzia Spaziale Europea, l'archivio europeo che si trova fiesole di tutta la memoria storica dell'Europa, si sta lavorando per cercare di preservare la conoscenza, cioè quando uno studioso va su un'opera e scopre cose, al di là della pubblicazione che fa, quindi metterlo fra le bibliografie, memorizzare, quindi lavorare in termini di knowledge preservation, memorizzare quello che lui ha guardato, quello che lui ha scoperto, su quale pagine andate a fare che cosa. Quindi fare in modo che oltre al grande problema della conservazione dei nostri documenti per l'eternità, perché il passaggio in digitale significa poter mandare veramente all'infinito con le caratteristiche che dicevamo prima, il nostro patrimonio storico, anche di ricordare la nostra conoscenza, il modo in cui noi componiamo conoscenza. Su questo fronte c'è ricerca, noi lavoriamo molto su questo fronte, investiamo molto su questo fronte perché crediamo insomma che queste siano linee sulle quali andare, anche perché dentro la biblioteca vaticana ci sono per esempio i pollini imprigionati nelle fibre dei documenti e i pollini servono per datare i documenti ma anche per sapere cosa c'era a un certo periodo dal punto di vista naturalistico e scientifico. Quindi lì dentro c'è una quantità di conoscenza all'interno di questi documenti che deve essere aperta e resa disponibile. avrei altre pratiche da mostrarvi, non mi fermo qui perché il mio tempo è più che terminato, quindi sono a disposizione poi per domande. Grazie. 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 Grazie.